Mentre il Divers 2 continua la sua scalata nelle classifiche dei giochi più venduti, ovviamente sempre più gente curiosa si avvicina al gioco anche sapendo poco del titolo, su come funziona, cosa fare, cosa farmare, perché fare una missione piuttosto che un'altra, eccetera eccetera. In questo video andrò a spiegarvi i punti fondamentali del gioco così come i consigli utili per arrivare a fare le missioni più difficili alla difficoltà massima. Quindi, non perdiamo tempo e iniziamo. Prima di iniziare vi ricordo brevemente che in descrizione vi lascio il link di Instant Gaming per acquistare il Divers ad un prezzo scontato e vi chiedo di spaccarlo letteralmente il pulsante dei like sotto al video perché sapete come a YouTube piace un casino quando lasciate like e aiuterete il video ad arrivare a più persone possibili. Allora, tip numero 1. Partiamo dalle basi velocemente per chiarire alcuni punti fondamentali. Le valute di Helldivers possono essere un po' confusionarie all'inizio ma niente paura ve le spiego io. Allora, avrete i soldi, quindi classica valuta in crediti, i supercrediti, le medaglie e tre tipi di componenti, componenti comuni, rari e supercomponenti. I crediti sono molto semplici e sono quelli che vi servono per sbloccare gli stratagemmi. Parentesi, vi lascio il link qui in alto se non avrete visto ancora il video riguardante i migliori stratagemmi da usare. Qui avrete un altro requisito che è quello del livello, ma per ora a noi non interessa. I crediti li prenderete in gioco, completando obiettivi secondari e portando a termine le missioni. Più cose farete all'interno delle missioni, più crediti riceverete alla fine della missione. I supercrediti invece sono la valuta premium che potete comprare all'interno del gioco con un classico shop, però attenzione, sarà una valuta che si potrà prendere anche dal pass normale, quello free per intenderci, comprandolo con le medaglie. In più, se esplorerete bene la mappa avrete la possibilità di trovarli anche nei luoghi secondari. Parentesi di questo ne parleremo anche tra poco. Le medaglie invece sono una valuta che vi permetterà invece di sbloccare equipaggiamento per il vostro personaggio e potrete spenderla nei potenziamenti, andando a scegliere tra armature, nuove armi, granate, eccetera, eccetera. Le medaglie le guadagnerete solo finendo le missioni e se siete fortunati, un po' come i crediti extra, potete trovarle anche nei luoghi secondari. Altro posto per prendere le medaglie è fare le missioni giornaliere che trovate nel menu principale. I componenti invece si trovano solo ed esclusivamente esplorando la mappa. I componenti comuni si trovano alle difficoltà più basse fino a quelle più alte. Quelli rari si trovano solo dalla difficoltà 5 in su, mentre i super componenti, quelli fucsia, li trovate soltanto dalla difficoltà 7 in su. I componenti sono fondamentali, non sono da sottovalutare perché sono quelli che vi permetteranno di sbloccare i potenziamenti per i vostri stratagemmi, che potrebbero fare tutta la differenza del mondo, come per esempio un attacco eagle in più o tempo di recupero minori per le torrette, per esempio, quindi mi raccomando non sottovalutateli. Tip numero 2. Esplorate sempre, e dico sempre, tutta la mappa, o quella che riuscite ovviamente a fare in base alla vostra velocità e al vostro team. Di primo acchitto vi basterà pensare a fare gli obiettivi principali, perché sono belli, grossi, arancioni, no? E dite ok, vado lì. Però, gli obiettivi secondari sono quelli che vi permetteranno di fare un farming efficiente ogni volta che esplorerete un pianeta. Quindi, aprite la mappa e spostate il cursore, vedrete che ogni tanto vi comparirà luogo secondario, se ci passate appunto sopra. Questo non sempre accadrà perché dipenderà da alcuni modificatori di alcuni pianeti e di alcuni disturbatori che possono utilizzare i nemici, quindi non sempre potrete fare questa cosa. Caso contrario, se dovesse capitarvi, vi consiglio di seguire le macchie rosse che sono gli obiettivi dove sicuramente ci sono nemici da attendervi, che possono essere ricchi di componenti e altro. Durante l'esplorazione guardatevi sempre ben in giro e cercate i fasci di luce nel cielo. Quelli sono i segnali di navicelle con al loro interno loot interessante. Potrete trovare medaglie, potrete trovare supercrediti, armi speciali e altro. Tip numero 3. Ricordatevi di tornare a raccogliere il vostro equipaggiamento. Capiterà tante volte di morire su Helldivers, non è un problema, almeno fino a quando avete i rifornimenti, mi raccomando. Il problema è morire con tutti i componenti che avete farmato fino a quel punto, o quelli dei vostri compagni. Quindi controllate la mappa dopo il vostro respawn e andate a riprendere le vostre cose. Le vostre cose saranno segnalate con queste icone gialle e quella dei componenti appunto sarà questa specie di provetta. Quindi fateci attenzione perché altrimenti tutto il vostro farming sarà stato vano. Tip numero 4. Partecipate alla democrazia ragazzi. Con questo tip più o meno vi spiego qual è lo scopo finale del gioco, diciamo così. L'obiettivo globale è quello che dobbiamo portare a termine tutti quanti insieme come community per poter progredire. Per esempio in questo momento della registrazione del video siamo in difesa perché gli automaton ci hanno attaccato e dobbiamo portare a termine 8 campagne di difesa. Ma le campagne di difesa cambiano e dovrete stare attenti a scegliere il pianeta giusto dove partecipare. Questo perché altrimenti giocherete su un fronte diciamo sbagliato senza portare avanti l'obiettivo globale. Quindi fate attenzione a quello che andate a combattere. Anche perché portarlo a termine sono 12.500 crediti che ci vengono consegnati a tutti quanti. Anche quelli di voi che magari hanno il gioco chiuso oppure non hanno partecipato eccetera eccetera. Questo è un obiettivo globale e questi 12.000 crediti li riceverete tutti. Però tra virgolette ognuno deve fare la propria parte. Tipo adesso nella campagna di difesa non sta andando benissimo. Siamo a 5 campagne di difesa su 8 e mancano 3 giorni. Aprendo la mappa vedrete che potrete atterrare su diversi pianeti, nella parte dell'automaton ovviamente. Ma al momento soltanto Mort come pianeta ha la campagna di difesa attiva e mancano circa 35 ore. Questo per esempio è il pianeta dove oggi dobbiamo concentrare i nostri sforzi. Questo ovviamente è l'obiettivo globale uguale. Questo ovviamente è l'obiettivo globale attuale. Tra 3 giorni quando questa campagna di difesa finirà probabilmente la perderemo e sarò molto curioso di capire cosa succederà. Ce ne sarà un altro. E questo è il modo di ragionare su Helldivers ovviamente se volete partecipare agli eventi globali oppure no. Tip numero 5. Cercate di non atterrare dove c'è rosso e quindi presenza di nemici ma cercate un posto tranquillo almeno per i primi secondi così da poter chiamare tutti i vostri supporti e girarvi prima di andare. Chiamate subito le munizioni così da poter partire full con le vostre armi speciali e resettare subito il cooldown per quanto vi servirà più avanti. Così facendo sarete subito pronti a combattere se atterrerete per esempio in un luogo con i nemici vi ritroverete a scontrarvi subito senza avere magari le armi speciali per puntare giù magari i corazzati oppure lo zaino con lo scudo eccetera eccetera. Quindi cercate di non buttarvi proprio sul rosso per insomma guardarli da lontano e avere qualche secondo appunto per prendere tutto e poi partire. Tip numero 6. Usate lo spezza ossa. Sul divers ci sono diverse armi che possono essere utilizzate ma è innegabile che in questo momento in questo meta diciamo così lo spezza ossa è sicuramente l'arma più forte che si può utilizzare al momento. Un'arma devastante a tutti i range nonostante sia uno shotgun fa danno anche da lontanissimo e si sblocca anche relativamente presso. Quest'arma vi permetterà di infliggere molti danni anche ai nemici più pericolosi e quindi è una roba da avere assolutamente. Sbloccatela appena potete quindi usate le vostre medaglie su questo pass e ve la porterete avanti fino alle ultime difficoltà senza nessun problema. Tip numero 7. A proposito di armi ragazzi non ricaricate. Lo so che sembra un controsenso ma le munizioni su Helldivers sono molto importanti e se venite da shooter normali diciamo così dove ricaricare è la regola qui dovrete stare invece molto più attenti perché se sparate due colpi e ricaricate o uccidete un nemico e ricaricate quel caricatore mezzo pieno che avete utilizzato andrà completamente perso. E i caricatori su Helldivers sono molto contati, sono molto limitati. Quindi ricordatevi di sparargli tutti i colpi prima di ricaricare perché altrimenti finirete tutto troppo presto. Quindi occhio. Tip numero 8. Portate armi pesanti. Alle difficoltà leggermente più alte comincerete ad avere a che fare con tanti o tantissimi, in base alla difficoltà che appunto avete scelto, nemici corazzati. E questi nemici con le armi normali non farete praticamente niente, zero. Quindi è importante che scegliate bene i vostri stratagemmi e tenete uno sempre, e dico sempre, per combattere questi tipi di nemici. Il Railgun che è sbloccato a livello 20 è sicuramente l'arma migliore che potete prendere da utilizzare contro qualsiasi bestione, che sia automatico o insetto. Sia per il danno che fa, ma soprattutto per la quantità di colpi che può apportare. In secondo luogo potete usare anche il canone automatico, molto utile anche per pulire, se siete per esempio da soli. E in più c'è un ammo economy molto ma molto alta perché avete tantissimi colpi da poter utilizzare. Contro le corazze però ha qualche problema e dovrete essere più precisi e cercare di sparare nei punti deboli dei bersagli, al contrario per esempio del Railgun dove invece potete sparare dritti per dritti. Con il razzo invece non avrete questi problemi, solo le munizioni perché sono poche, sia di quello a singolo colpo di cui trovate due razzi ogni volta che lo chiamerete da terra, e sia quello con lo zainetto. Però servono e come, quindi pensate sempre a questi tipi di armi quando entrate in una missione. Tip numero 9, niente panico se finisce il timer della missione. Soprattutto a difficoltà elevate può capitare di arrivare al pelo verso la fine, non è un extraction shooter brutale e se il timer finisce non morirete tutti. Semplicemente il timer se arriva a zero avrete dei malus, e cioè che la vostra nave lascerà l'orbita e quindi non sarete più in grado di chiamare i vostri stratagemmi. Il che vi metterà comunque in una posizione pericolosa per continuare la missione e dovrete fare affidamento soltanto sulle armi. Il che diciamo che non è una cosa ottimale. Quindi nonostante non sia fatale come cosa, suggerisco comunque di arrivare a chiamare l'estrazione con al conar meno qualche secondo giusto per avere la possibilità di sparare ancora qualche stratagemma per difendervi. Tip numero 10, non sottovalutate la vostra armatura. Sappiamo che il divers non è così profondo a livello di build o statistiche eccetera eccetera, però le armature hanno qualcosa di particolare che può far la differenza. Le armature si sbloccano nei pass come vi ho fatto vedere prima e sono di tre tipi, pesante, leggera e media. La leggera è quella più mobile di tutte, vi permetterà di essere più veloce, di consumare meno stamina, però è quella che resiste anche meno ai danni. Al contrario la pesante è quella che vi dà più fastidio nei movimenti ma sarete decisamente più resistenti e la media ovviamente è la via di mezzo tra le due. Ma la cosa importante sono i perk, date un'occhiata a quelli che avete sbloccato per vedere qual è la migliore con la quale vi trovate. Per esempio io mi trovo molto bene con le leggere per la mobilità ma se devo andare a fare qualcosa in solo oppure a difficoltà 9 anche con in gruppo, mi metto questa media che mi permette di avere più medikit da usare per aumentare la mia sopravvivenza. Ovviamente ci sarebbe da entrare nel dettaglio di ogni tip che vi ho dato fino adesso oppure aggiungerne di altre, ma almeno con queste in mente dovreste avere una base solita per aver capito il gioco e migliorare il vostro gameplay per arrivare a giocare fino alle difficoltà più alte. Nei commenti qui sotto come sempre continuate a dare qualche consiglio utile anche voi se volete così da aiutare tutti quelli che cercano altre informazioni appunto al riguardo su Eldivers 2. Io vi chiedo di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!